Cesare, siamo pronti per partire? Siamo già in onda, Lorenzo? Eh sì. E allora buonasera a tutte e a tutti. Questa è la nostra anteprima di Stato dell'Arte. Sono innanzitutto circondato dal mio pubblico in studio che mi viene a trovare da un'importante Università di Roma. Da dove esattamente? Buonasera a tutti. Noi siamo studenti della Sapienza Università di Roma. Io sono Valerio Tomassetti e facciamo tutti quanti parte dell'Associazione Studentesca Sapienza Futura. Bene, indagheremo che cos'è Sapienza Futura. Oggi ci attende un menù davvero molto ricco. Innanzitutto incontreremo un artista digitale che ricrea dei veri e propri mondi, ma è stato anche un grande sportivo del basket. Non a caso proprio una palla di basket tra le mani. E poi incontreremo degli artisti orafi che creano dei gioielli che sono delle vere e proprie opere d'arte, delle vere e proprie sculture. Ci sarà poi qui in studio una grande street artist, una delle poche donne street artist italiane. Pensate, giovanissima, è stata già inserita nell'enciclopedia Treccani. E poi, dulcis in fundo, ci collegheremo con la prima Hobbitville italiana. In Abruzzo avremo in collegamento il sindaco della Contea Gentile, un personaggio davvero straordinario. E quindi, allora, siamo pronti? Lorenzo, io la palla ce l'ho da basket per il primo ospite. Che facciamo? Cominciamo? Vai Cesare, possiamo iniziare? E allora, sigla! Ben trovati a Stato dell'Arte. Mi trovo vicino al nostro splendido albero di Natale. Guardate un po' che bellezza. È un omaggio al nostro direttore artistico Antonello Risati, che si prende cura dei nostri studi, ma è anche il simbolo dei regali che vi faremo questa sera. Il primo lo vedete qui, vicino a me, perché siamo sbarcati, insieme a Cusano Italia TV, su Spotify. Quindi ci potete ascoltare in ogni momento della giornata, potete ascoltare le nostre recensioni delle mostre e le nostre interviste esclusive a grandi artisti, come quella di stasera ad Anderson Tegon. Buonasera Anderson, grande artista digitale, ma anche grande sportivo, ex cestista del basket di una squadra importante come il Benetton Treviso. Esatto, la squadra della mia città poi in realtà. Innanzitutto Anderson, come stai? Molto bene, Roma è sempre bella e accogliente. Tu hai 38 anni, se non sbaglio, e hai già vissuto tante vite. Sì. Quante? Beh, io ne chiamo una in realtà, ma fatta di tanti fili. La vita è come un filo unico, dove ci sono tanti piccoli fili collegati e quindi tutti assieme collegano e si dirigono verso un luogo che probabilmente noi non conosciamo, forse non è neanche importante. Dove sei nato? Io sono nato in Brasile, sono nato a Salvador Bahia, ma sono cresciuto a Peseggia, che è un piccolo paese in provincia di Venezia, che mi ha accolto tanti anni fa. Quindi sei Veneto Doc? Sono assolutamente Veneto Doc. Cosa c'è in te di brasiliano e cosa di Veneto? Beh, l'istinto... Le due cose si incrociano e si incontrano. L'istinto è sicuramente la positività, la capacità di vedere probabilmente... Il lato positivo in tutto è sicuramente qualcosa che il DNA brasiliano mi ha regalato. La parte Veneto è la concretezza, lo spirito, la dedizione al lavoro, la mentalità, sicuramente è una cosa che io ho visto in mio padre e porto avanti in maniera... Ci provo almeno. Infatti tu sei un artista, ma sei anche un ottimo imprenditore di te stesso. E poi scopriremo come. Ma tu parti da sportivo, da professionista del basket, proprio a Treviso. Sì, io ho giocato in varie squadre, lì vicino a casa e poi appunto sono scelto da Treviso, ho fatto tutto il percorso del settore giovanile, poi ho giocato in nazionale, quindi mi sono tolto molti sfizi. La palacanestro è assolutamente la mia prima scuola. Tu hai dichiarato che dal basket hai imparato tutto. Tutto. Che cosa in particolare? Il basket innanzitutto è uno sport di squadra e la squadra prevede l'accettazione del proprio ruolo all'interno di un obiettivo e questa è una cosa difficilissima da trovare nella vita. La palacanestro poi è uno sport molto mentale, prima ancora che fisico. E questa è una cosa che nella vita facciamo fatica anche oggi a riconoscere, la mente sul corpo. Però in realtà la palacanestro ti aiuta anche a interagire con gli altri, a non dimenticarti mai dove sono, in quale posizione sono e ricordarti sempre che se tu hai bisogno di qualcosa devi sapere andare da chi andare e sapere anche come andare. Tu sei cresciuto nell'era di Michael Jordan. Cosa ha rappresentato per te questo grande campione del basket? Tutto. Tutto. Per me, tra l'altro ho avuto anche l'occasione di incontrarlo a Venezia tre o quattro anni fa. E tutto. La mentalità con cui lui approccia la palacanestro, con cui lui approccia la vita e in generale l'ossessione per, neanche per vincere, ma proprio per provare, tentare, continuare e perseverare. Questa è una cosa che io mi porto dentro e credo che senza di questa io non esisterei neanche come artista. Allora, tu quindi nasci sportivo e poi a un certo punto diventi artista. So che Galeotto è stato, pensate, un taxi a New York. Ci racconti bene? Sì, perché nel post palacanestro chiaramente io vagavo per il mondo, ho avuto la possibilità di girarlo. Ero a New York ed ero, per esattezza ricordo perfettamente, a Dumbo, che è un quartiere di Brooklyn, e un caro amico mi disse raggiungemi a Manhattan, che è stata l'altra parte del ponte, chiaramente Manhattan è un'isola. E io dissi, va bene, arrivo, provavo a cercare il sharing, mi disse, ricordo questa frase, mi dice, dai non fare il solito italiano, prendi uno sharing con qualcuno e monto in macchina con lui. Io ho detto, va bene, provo, monto in macchina. E ricordo che nella macchina c'era il guidatore e c'era questo ragazzo che stava giocando con il computer. E si alternavano numeri, quindi coding, e fiori. E non capivo questa connessione. Allora, più di dieci minuti l'ho guardato e basta. Poi gli ho chiesto che lo stesse facendo. Lui mi disse, guarda, questo in realtà è un mio progetto che presenterò. E in realtà lui stava creando, era sostanzialmente, un'opera immersiva. La stava scrivendo con il coding, ma da quel coding nascevano appena dei fiori, perché le persone potevano toccare le pareti. Fermiamoci un attimo, Lorenzo. Allora direi di cominciare a vedere lo showreel. Così il nostro pubblico può capire, no? Qual è l'illuminazione che hai avuto in questo taxi. Sì. Perché che cosa è accaduto poi? Ma poi è accaduto che tutto mi era chiaro, perché la cosa bella di una persona che ha la fortuna di nascere con una sensibilità artistica è che quando ti viene in mente qualcosa, quando mi viene in mente qualcosa, è tutto molto chiaro. E tu già alla fine. Alla fine un regista si immagina il film, le immagini, le scene, già finite, no? Le spiega agli attori, ma in realtà lui le ha già in testa. E quindi io lì ho capito che quello era un modo per me importante, giusto e anche che calzava perfettamente con la mia persona di riuscire a creare delle opere. Però tu all'inizio pensavi di fare il produttore di mostre immersive. Innanzitutto spieghiamo bene al nostro pubblico che cos'è una mostra immersiva. Intanto spieghiamo cos'è un luogo immersivo. Certo. Un luogo immersivo è, io faccio sempre questo esempio, immaginiamoci un bosco. Quando una persona entra in un bosco per qualche motivo se ne accorge. No, tu puoi fare milioni di sentieri, milioni di chilometri, ma quando ci entri tu lo sai. Perché il bosco è il primo luogo in assoluto che la natura ci ha regalato come immersivo. Cioè il momento in cui tutte le nostre sensazioni, le nostre emozioni, i nostri sensi si allineano e ci rimettono al centro della nostra esperienza. In quel momento lì nasce l'immersività. Quindi è un essere contornato a 160 gradi della propria esperienza fisica. Questo è un luogo immersivo. E poi c'è la tecnologia. Io utilizzo la tecnologia perché anni fa ho pensato, guardando quello schermo, e mi era molto chiaro che le persone avessero assolutamente bisogno di vivere esperienze, ma anche fretta di capirle. Il tempo di fruizione delle esperienze oggi è cambiato moltissimo. Pensiamo una volta, uno leggeva il giornale, ora TikTok, i grandi social, hanno distrutto il tempo di fruizione delle informazioni, ma in generale delle esperienze in toto. Le tecnologie hanno questa grandissima dote che aumentano l'esperienza delle persone, quindi riducono il tempo di comprensione. Non cambiano la profondità o l'efficacia o la qualità. Quella è la questione di come vengono realizzate, ma aumentano l'esperienza. Allora, cominciamo a vedere un tuo lavoro in particolare, Aura, menzionato tra le prime cinque pensate esperienze immersive in Europa. Tu hai dichiarato che Aura è un progetto che ha più della follia che del progetto stesso. Noi amiamo molto la follia qui a Stato dell'Arte. Che cosa intendevi? Ma allora, innanzitutto è nato, questo è un progetto che di media si fa in 6-7 mesi. Noi l'abbiamo fatto in un mese e mezzo. Di cosa si tratta? Spieghiamolo perché lo stiamo vedendo in questo momento. Aura è uno spazio completamente immersivo, quindi un spazio proiettato solo a terra, all'interno di una black box alta 10 metri, uno spazio che è lungo 50 metri per 25, ed è uno spazio che sostanzialmente esiste se esistono le persone che ci entrano all'interno. La mia idea, la nostra idea era quella di creare un'esperienza dove le persone potessero, in real time, quindi in tempo reale, potessero cambiare i contenuti diventando da visitatori a artisti. Quindi coinvolgendo la mente, come dicevo prima, riportando le persone al centro dello stesso e aura è questo elemento circolare, l'aura che ci compare, che ci fa capire la presenza nostra nel mondo. Cioè noi esistiamo quando vediamo qualcosa che cambia per le nostre azioni. Nella mia volontà c'è appunto questo. Rimettere le persone al centro e fargli vedere quanto le loro azioni possono cambiare anche l'arte. Tu a un certo punto fondi Peppers Ghost. Che cos'è? Peppers Ghost è un'altra follia, prima di tutto. Peppers Ghost è un gruppo di persone, un collettivo che io guido, ma che in realtà ha una sua forza e identità che appunto crea e produce contenuti e installazioni immersive. Avendo come unico fine, come unico guida, il concetto di lanciare sempre un messaggio, che è il principio dell'arte. Un disegno è un disegno fin quando non lancio un messaggio. Quando non lancio un messaggio diventa arte. E questa è la nostra volontà. Abbiamo adesso avuto la fortuna di aprire un'altra sede a Dubai, adesso ne stiamo aprendo un'altra Riyadh. Il mio sogno è quello di tornare a New York per ricollegare il mio cerchio e il mio filo. Ma la volontà è appunto quella di dare l'opportunità ai nuovi talenti. Perché la cosa bella della digital art, che io adoro, è che è in mano a un target di età molto basso e che non ha un limite. Potenzialmente un artista digitale può iniziare anche a dieci anni se ha voglia di scrivere un codice. E a me questa cosa affascina tantissimo. Essere l'opportunità per loro per esprimere se stessi con me o anche da soli se lo vogliono fare, per me è importantissimo. Adesso andiamo a vedere invece regia un altro tuo lavoro, anzi una trilogia dedicata a un'opera di Banksy. Che cosa è combinato con Banksy, su Banksy? Allora intanto parliamo di Venezia, che è la città che io amo, in cui sono cresciuto. E che io ancora oggi considero la città, l'esperienza immersiva in assoluto, per eccellenza. Io cercavo Banksy perché io ho già visto una serie di sue installazioni e di mostri, anche se unofficial, come lui definisce. E quando mi sono trovato davanti, passando in barca lì davanti a Venezia, ho visto proprio il pezzo, ho detto, ma è pazzesco perché tutti noi discutiamo di chi sia, perché di base è un segreto, ha questa grande forza di essere stato un segreto. Ma la grande forza è che questa bambina conosce il segreto. Quindi quanto bello sarebbe... Conosce il suo autore. Eh sì, conosce il segreto, sa tutto. E quindi quanto bello sarebbe potergli dare vita e voce. Ed è quello che abbiamo fatto. Che inizialmente mi sembrava una cosa quasi banale, e in realtà poi lavorandoci... Spiegaci come ha ottenuto quest'opera, quest'effetto. Ma questo è un mapping fatto con un proiettore molto grande, molto potente, immagino. Che però ha reso possibile appunto l'animazione di quest'opera. Poi io dal punto di vista artistico, nonostante molte persone volevano farle fare qualsiasi cosa, ho trovato invece molto forte, molto importante, farle fare l'unico gesto che noi non facciamo più. Che è il silenzio. Che paradossalmente, tu che sei un grande estimatore d'arte lo sai, nei teatri, il silenzio è il momento più rumoroso in assoluto. Quindi il fatto che lei chieda per un minuto, prima di parlare, chieda il silenzio, è quasi un come fermiamoci tutti un attimo, che c'è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Che non è tanto se Banksy esiste o no. Ma sono i temi che ci... che abbiamo dentro, che probabilmente non abbiamo ancora risolto dopo anni e anni e anni. Sono persone che ancora ad oggi sono in difficoltà. E l'arte ha il dovere di ricordarsi di loro e di dare voce, partendo dal silenzio. Di Banksy hai dichiarato che ti affascina la sua invisibilità. Sì. Che l'invisibilità è un superpotere. superpotere. Sì. È una frase che lui ha detto, lui disse che le persone sono ossessionate dalla presenza. Quando in realtà l'invisibilità è un superpotere. Perché è la verità. Perché l'invisibilità non è assenza. Anzi, è un punto di vista privilegiato. Immaginiamoci quanto sarebbe forte la nostra vita se per due ore o al giorno, tutti i giorni noi potessimo diventare invisibili. Quante cose scopriamo delle persone che ci stanno vicino. Cose che non sappiamo. L'invisibilità è un grande vantaggio che l'arte ha che l'artista ha. Quando noi esponiamo un'opera a Parigi e noi siamo a New York di fatto la nostra arte è lì noi non esistiamo lì ma è come se fossimo lì. Come se fossimo invisibili. Quindi è un concetto importante per tutti gli artisti. Io ricordo Ezio Bosso diceva appunto che la sua musica viaggiava. Lui non era lì ma la musica viaggiava. L'invisibilità è questa cosa qui. Essere in più luoghi senza però esserci senza che le persone ci vedano. Ma noi ci siamo. L'arte è questo. Prima di vedere altri tuoi lavori vorrei parlare con te della diversità. Tu hai dichiarato sono un ragazzo di colore cresciuto in Veneto negli anni 80 e cercavo il diverso. Abituarsi al diverso per me è stata una scoperta che ancora oggi mi emoziona molto. Adoro il diverso. Cosa ha dato e cosa dà al lavoro al tuo lavoro la diversità? Allora è una domanda bellissima. Allora di base la diversità fa rima con l'accettazione se vogliamo parlare di diversità dobbiamo parlare di unicità perché le parole hanno specialmente per alcune persone hanno un peso molto 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 grande quindi dovremmo smettere di parlare di diversità e parlare di unicità perché l'unicità la ricerchiamo la diversità l'allontaniamo quindi per me personalmente io mi sono fatto un'enorme promessa da cui ne è uscita la maggior parte ne sono uscita la maggior parte delle cose che si vedono oggi durante il covid tutti dibattevano sull'essere o cosa saremmo diventati in futuro dopo il covid io mi sono visto tutta la mia vita tutti i momenti in cui essere diverso era un problema perché essere un ragazzo di colore può essere un problema per alcune persone entra in un negozio e di fatto tu puoi essere io nel mio caso tra l'altro come nel mio caso sembravo un calciatore o un ladro questo era più o meno il range di situazione io mi sono promesso una cosa io ho detto io voglio essere voglio forzare me stesso ad essere me stesso più volte possibile più volte al giorno e da questa cosa qui ho ritrovato me stesso ed è come se avessi un po' messo in equilibrio tutto quindi la mia diversità e la mia unicità è in realtà la mia forza perché più io sono me stesso e più ciò che sono esce e quando esce le cose che stiamo vedendo escono in maniera totalmente naturale e facile come il lavoro che hai fatto per Jaguar che adesso la nostra regia trasmetterà che tu hai realizzato per un'importante fiera italiana d'arte contemporanea anzi direi la più importante che è Artissima che si svolge ogni anno nel mese di novembre a Torino sì io ricordo perfettamente Mauro Vento venne da me che è il loro marketing manager venne da me e mi chiese appunto noi dobbiamo sintetizzare un'auto che non abbiamo mai visto no in un'opera artistica sei in grado di farla e ho detto penso di sì raccontami cosa vuole chi siete noi abbiamo speso del tempo assieme e devo dire che è un'opera che è venuta veramente in maniera molto veloce è un'opera che racconta di innovazione la stiamo vedendo senza in realtà far vedere mai l'auto dentro lì ci sono i concetti più essenziali del futuro di Jaguar che è un'azienda che sta cambiando completamente che produrrà solo auto elettriche quindi a impatto zero quindi io ho voluto qui dentro proprio sintetizzare i colori il tocco peraltro è un'opera che ha una parte una parte del suono molto importante perché abbiamo usato le frequenze per indurre delle emozioni alle persone che entravano perché usare un'auto ma in realtà proiettarci in un mondo dove noi siamo abituati per esempio le città avranno anche un suono diverso noi siamo abituati al suono dei motori non ci saranno più quindi anche quell'esperienza lì sonora era importante è stata un'esperienza pazzesca perché sai un prodotto sintetizzato in un'opera artistica senza far vedere il prodotto è una sfida enorme e anche questa l'abbiamo realizzata in pochissimo tempo ma c'era visione comune c'era voglia comune c'era probabilmente anche dell'empatia molto molto forte con loro è stata un'esperienza forte e ha avuto successo diciamo così ha avuto grande successo e siamo molto contenti beh questa è la differenza tra una pubblicità e un'opera d'arte esatto l'opera d'arte ha valore la pubblicità costa l'opera d'arte invece ha valore sono due cose io lo dico sempre guarda sono due cose diverse lo dico sempre alle aziende quando le invito a sostenere la ricerca artistica passiamo ora a un'altra tua opera che si chiama Aria sì opera che tu hai realizzato per il Balloon Museum e che se non sbaglio ora si può vedere a Napoli sì ora è a Napoli e so che viaggerà adesso non so perfettamente quale sarà il giro ne stiamo realizzando anche un'altra per Barcellona e qui diciamo che abbiamo giocato con un elemento giocoso sembra leggero dal punto di vista quasi che è il palloncino in realtà nasconde ancora una volta un contenuto in realtà molto forte Aria come concetto fisico è una cosa anche qui l'invisibilità ci è essenziale ma non la vediamo e infatti nell'opera la cosa bella è che in un certo momento in un certo punto Aria esce è un viso di donna quindi è femminile esce ma è visibile soltanto se si presta attenzione perché per accorgerci dell'aria noi dobbiamo fermarci un attimo prendere un respiro infatti si chiama The Breathe Experience ti devi prendere un respiro devi accorgerti di ciò che ti entra dentro e ciò che ti esce che è un concetto che ha molto a che fare con la vita in generale e le persone scoprono della presenza di questo viso solo a casa perché si guardano le foto che hanno fatto e scoprono che nella loro esperienza c'era qualcosa in più forse avevano vista forse intravista forse non ce ne erano neanche accorti però c'era e questa è l'aria questa è la vita in generale Sentiamo se il nostro pubblico ha qualche domanda per te tra l'altro tra di voi c'è un data scientist esatto io sono io infatti la curiosità è anche un po' tecnica prima tu hai detto che anche un bambino di 10 anni può sperimentare questo tipo di arte volendo se riesce ad approcciare la programmazione per una persona che vuole provare ad intraprendere un percorso del genere cosa consigli cosa dovrebbe fare? Allora la bellezza di quest'arte è che quantomeno in fase iniziale c'è un ci sono tantissimi tutorial per iniziare a mettere le prime mani sulla tastiera e si possono già iniziare a creare tu pensi Minecraft per esempio è un po' una scuola di bambini però 8 anni 10 anni già cominciano ad approcciarsi quindi quello che conta però è che è importante da non dimenticare che qui parliamo di creatività ed arte quindi parliamo di talento non è tanto imparare un codice che questo è molto facile tu fai data analisi quindi lo sai no? quello che conta però è saper leggere quel codice sapere capire che cosa si vuole creare con quel codice se non c'è la visione e questa è una questione puramente artistica è difficile che una persona si possa approcciare in un stato mentale quindi se tu hai esigenza di fare qualcosa raccontare qualcosa quello ha già un buon punto di partenza per iniziare a lavorare nel nostro mondo e allora vediamo un'altra tua opera Aia che cosa vuol dire innanzitutto questo titolo allora questa è un'opera per me sperimentale noi l'abbiamo fatta all'Alcatraz che è uno spazio storico di Milano che ha sempre ospitato grandi concerti è un'opera che ha raccontato una storia e la storia qui è stata fatta per una serata che si chiama Hakim che è una serata io trovo bellissima perché è super inclusiva all'interno non c'è limite né di cultura né di nazionalità c'è una selezione musicale che è molto molto aperta ed è stata una rivoluzione di Milano infatti è una delle serate più importanti di Milano facciamo i dieci anni quindi io ho voluto raccontare con un racconto immersivo quindi con una storia fatta in quattro atti l'evoluzione di loro quindi l'idea che ci sia un universo da cui tutti noi proveniamo e che in realtà negli anni nel racconto nella sua storia si evolve e ci porta poi alla fine nel finale c'è questo elemento di queste due figure umane di cui non hanno sesso non c'è un sesso da loro però si incontrano si baciano e creano poi tutta quella che è il grande finale un po' come dire che non importa da dove vieni non importa quale sia il tuo percorso se sei in grado di unirti assieme a me assieme a chiunque in un'esperienza comune quello che possiamo creare è una cosa molto forte che poi è la musica la musica prevede assolutamente qualcuno che la faccia qualcuno che la pensi ma qualcuno che la sappia anche ascoltare e apprezzare grazie 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 ad Anderson Tegon ci prometti di tornare a Stato dell'Arte? Volentieri volentieri ed ora linea alla rete pochi minuti di pubblicità e poi incontreremo qui in studio gli artisti del gioiello contemporaneo a tra poco grazie a tutti